Ciao a tutti, viaggiatori e amanti della buona cucina. Oggi ci troviamo nelle incantevoli Marche, una regione dell'Italia centrale, che spesso passa sotto il radar dei turisti, ma che nasconde autentiche meraviglie naturali e delizie gastronomiche. In questo video, esploreremo i 5 posti più belli da visitare nelle Marche e scopriremo i 3 cibi più famosi che non potete assolutamente perdere. Allacciate le cinture, perché stiamo per iniziare il nostro viaggio! Re Canati è una piccola città con una grande importanza storica e culturale. È principalmente nota per essere la città natale di uno dei più grandi poeti e pensatori italiani, Giacomo Leopardi. La città è intrisa di atmosfera romantica ed è un luogo di pellegrinaggio per gli amanti della letteratura. Il cuore di Re Canati è dominato dalla Casa Leopardi. I turisti più curiosi potranno visitare la sua casa per immergersi nella vita quotidiana del famoso poeta. Un altro luogo di grande importanza a Re Canati è la collina del Monte Tabor, da cui si può godere di una vista panoramica spettacolare sulla città e sulla campagna circostante. Il centro storico di Re Canati offre l'opportunità di immergersi nell'atmosfera delle Marche e di scoprire le tradizioni e la cultura locali. Re Canati è un luogo che incanta gli amanti della letteratura e della poesia, ma è anche una finestra sulla vita e sull'arte ed un'occasione per esplorare la bellezza delle Marche, dalla collina panoramica ai vicoli del centro storico. Ascoli Piceno è una città delle Marche che stupisce i visitatori con la sua affascinante atmosfera medievale e la sua ricca tradizione gastronomica. Uno dei luoghi più iconici e amati della città è sicuramente Piazza del Popolo. Piazza del Popolo è una delle piazze più spettacolari d'Italia, circondata da edifici storici dallo stile architettonico eclettico. Questa piazza è il cuore pulsante di Ascoli Piceno e rappresenta il luogo ideale per passeggiare, rilassarsi e ammirare l'architettura. Ascoli Piceno è una città che affascina con la sua storia, la sua architettura e la sua cucina tradizionale. Non possiamo dimenticare di menzionare le famose olive all'Ascolana, un cibo di cui parleremo alla fine del nostro viaggio per finire in bellezza e rimanere con l'acquolina in bocca. Ascoli Piceno è sicuramente una città che merita una visita per chi desidera rimanere coinvolto nella storia, nell'architettura e per chi ama assaggiare prodotti tipici locali. Il parco regionale del Conero è una perla naturale situata lungo la costa delle Marche, che si estende dalla città di Ancona fino a Numana e Sirolo. Questo parco incantevole è una destinazione ideale per gli amanti della natura, degli sport all'aria aperta e del mare cristallino. Una delle caratteristiche più spettacolari del parco del Conero sono le sue spiagge di sabbia dorata. Questi luoghi offrono l'opportunità di fare snorkeling, nuotare o semplicemente rilassarsi al sole, immergendovi nella bellezza della costa del Conero. Il Monte Conero, che si trova al centro del parco, è una meta popolare per gli escursionisti e gli amanti della natura. Una camminata fino alla cima del monte vi regalerà una vista panoramica mozzafiato sulla costa, sulle spiagge e sulle città circostanti. Il parco del Conero non può non essere incluso nella lista delle cose da vedere quando passate per questa bellissima regione. È una destinazione che offre una combinazione perfetta tra bellezze naturali e attività all'aperto. Che siate amanti del mare, dell'escursionismo o della semplice contemplazione della natura, questo parco vi incanterà con la sua bellezza e la sua diversità. Le grotte di Frassassi sono una meraviglia naturale nascosta nelle profondità delle marche. Queste grotte sotterranee sono uno dei tesori geologici dell'Italia e tra le più grandi d'Europa. Esplorare le grotte di Frassassi è un'esperienza unica e affascinante che vi porterà in un mondo sotterraneo di incredibile bellezza. Le grotte di Frassassi sono caratterizzate da una vasta varietà di formazioni geologiche, tra cui stalattiti, stalagmiti, colonne e concrezioni calcaree. La grandiosità delle gallerie sotterranee è impressionante e camminare attraverso questi ambienti è come entrare in un regno incantato. All'interno delle grotte potrete visitare diverse sale. La visita alle grotte di Frassassi è un'esperienza unica che vi porterà in un mondo di meraviglie geologiche. È una destinazione perfetta per gli amanti della natura, gli appassionati di geologia o chiunque sia alla ricerca di una prospettiva diversa sulla bellezza della Terra. Al primo posto nel nostro viaggio troviamo Urbino, che vi lascerà già ammaliati al primo sguardo. È una città straordinaria che si trova incastonata tra le dolci colline delle Marche. Questa città rinascimentale è famosa per la sua storia, la sua cultura e la sua bellezza architettonica. Il cuore pulsante di Urbino è il Palazzo Ducale, un capolavoro architettonico del Rinascimento italiano. La facciata del palazzo è un esempio sublime dell'architettura rinascimentale, caratterizzata da eleganti logge, decorazioni in marmo e una torre imponente. Urbino è anche celebre per essere la città natale del pittore del Rinascimento, Raffaello Sanzio. La casa natale di Raffaello è diventata un museo dedicato alla sua vita e al suo lavoro, e ospita una ricca collezione di opere d'arte e oggetti legati all'artista. Inoltre, Urbino è circondata da paesaggi collinari mozzafiato e offre viste panoramiche spettacolari sulla campagna marchigiana. La città è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ed è un luogo che ti catturerà con la sua bellezza e la sua storia straordinaria. Se non vedete l'ora di scoprire nuove prospettive nell'arte, nella cultura e nell'architettura del Rinascimento italiano, Urbino è una tappa imperdibile nel vostro viaggio attraverso questa regione. Le Marche sono una regione italiana ricca di tradizioni culinarie autentiche e prelibatezze. Ecco i tre cibi più famosi che dovrete assolutamente assaporare in questa regione. Questa è la risposta delle Marche alla lasagna. È un piatto ricco e delizioso composto da strati di pasta, carne di pollo o manzo, sugo, funghi e besciamella, il tutto gratinato al forno. Questo è uno dei piatti più famosi delle Marche. Le olive verdi, spesso della varietà tenera scolana, vengono snocciolate e farcite con una miscela di carne di maiale, formaggio e aromi, poi impanate e fritte, fino a diventare croccanti. Le Marche sono famose per i loro tartufi e le tagliatelle al tartufo sono un piatto sublime. La pasta fresca viene condita con una salsa ricca a base di tartufo nero o bianco e parmigiano. E con questo, concludiamo il nostro affascinante viaggio attraverso le Marche, una delle regioni più autentiche e sorprendenti d'Italia. Speriamo che questo video vi abbia ispirato a esplorare le meraviglie di questa terra ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Dalle città medievali che raccontano storie millenarie, alle coste mozzafiato e alle prelibatezze culinarie uniche, le Marche sono una destinazione completa che non smetterà mai di stupirvi. Se avete amato questo video e desiderate scoprire altre destinazioni da sogno o conoscere meglio la cultura e la cucina italiana, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Lasciate un commento, siamo sempre felici di interagire con i nostri spettatori. Grazie per essere stati con noi in questo straordinario viaggio. Alla prossima avventura in Italia e oltre. Alla prossima avventura in Italia e oltre.